I nostri cari e amati MacBook ma a volte possono testare quelli che possono essere alcuni problemi oppure magari perché col tempo vogliamo semplicemente poterli ripristinare e quindi resettarli e formattarli a quello che comunque può essere un qualche cosa di pratico e veloce ebbene oggi vediamo com'è semplice poter andare a formattare un qualsiasi tipo di Mac sia che sia un MacBook Pro, un iMac, un Mac Mini e chi più ne ha più ne metta in un modo pratico e veloce per quelle che possono essere formattazioni rapide e dove ovviamente potremo andare a ripristinare il tuo Mac con semplici passaggi ma prima di ciò ti ricordo di iscriverti al canale per poter essere sempre aggiornato tutti quanti i miei video Prima di iniziare ovviamente fai attenzione a tutte quante quelle che sono le raccomandazioni che comunque andrò a mostrarti nel video come prima cosa ci dirigiamo qui in alto nelle impostazioni e andiamo sulla voce generali qui ci dirigiamo poi sulla voce che troviamo qui ovvero trasferisci e inizializza una volta fatto qui ci dirigiamo semplicemente su questo tasto e andiamo poi ad inserire quella che è la nostra password in questo momento il nostro Mac ci andrà a dire che andrà ad inizializzare il tutto e quindi ci farà uscire da tutti quanti i suoi servizi andando quindi ad inserire semplicemente la password qualora vi esce questo messaggio andiamo a premere quindi su cancel in questo momento poi ci andrà ad inviare codice di sicurezza sui nostri dispositivi Apple oppure per email dove una volta inserito andremo quindi a premere poi sul tasto qui una volta fatto ciò vedremo che il nostro Mac in questo caso si andrà a riavviare numerose volte non abbiamo paura perché ovviamente per questioni di tempo andrò ad velocizzare il tutto ma ovviamente questo passaggio impiegherà diversi minuti quindi non avete paura se il vostro monitor andrà quindi a accendersi e a rispegnersi continuamente per diverse volte fino a quando non arriveremo quindi a questo punto dove ovviamente ci dirà di andare a reimpostare quelli che sono ovviamente i nostri mouse e tastiera ti lascio qui il link in alto per poter vedere con precisione come poterlo fare una volta fatto ciò ci dirigiamo qui in alto e andremo quindi a scegliere la lingua della nostra tastiera una volta fatto ciò invece sulla sinistra andremo poi a selezionare invece quella che è la lingua che vogliamo ritrovarci ora nelle impostazioni in questo caso andremo ad inserire appunto l'italiano per entrambe le volte una volta fatto ciò quindi andremo poi qui in alto sulla destra e andiamo quindi ad inserire quella che è la password del nostro wifi una volta quindi inserita la password ovviamente andremo poi avanti dove inizierà altri caricamenti i quali impiegheranno anche loro alcuni minuti una volta fatto ciò ci basterà poi premere sul tasto riavvia che ci mostrerà quindi il nostro mac per continuare poi quindi gli altri caricamenti anche in questo caso il mac potrà riavviarsi alcune volte quindi non avete paura se anche in questo caso il mac si andrà a spegnere e quindi ad impiegare diversi minuti per potersi poi riaccendere una volta fatto ciò il nostro mac ci dirà di reimpostare nuovamente il nostro mouse o la nostra tastiera come andremo a fare ad esempio con il mio modello di mouse una volta fatto ciò quindi potremmo quindi finalmente inizializzare il nostro mac andando quindi a scegliere in primis la nostra lingua in questo caso andrò a scegliere l'italiano nuovamente andremo poi ad reimpostare nuovamente il mouse e la tastiera qualora non verrà poi riconosciuto attraverso il cavo e poi andremo quindi a settare il nostro mac in base alle nostre caratteristiche in questo caso andrò a mettere la voce maschile andremo poi a premere avanti e andremo poi a gestire i fattori di accessibilità eccetera i quali poi ovviamente possono essere personalizzabili in quanto ovviamente ognuno di noi ha delle proprie esigenze andremo poi ad inserire nuovamente la password del nostro wifi e continueremo poi avanti con i dati e le privacy in questo caso ci dirà anche se vogliamo andare ad assistere alla migrazione dei dati oppure semplicemente muovendosi sulla sinistra qui in basso per accedere come se fosse un nuovo mac in questo caso andremo ad inserire nuovamente il codice che ci verrà poi inviato come prima sopra i nostri dispositivi Apple e poi proseguiremo avanti una volta qui ovviamente ci dirà di inserire i nostri dati nome, cognome eccetera scegliere quello che può essere un emoji all'interno delle varie soluzioni da poter scegliere e poi ovviamente personalizzare al meglio quello che ovviamente può essere il nostro Mac una volta fatto ciò continueremo andremo poi ad inserire ovviamente i dati di iCloud quali potremo poi scegliere le varie impostazioni come le stesse poi di poter rendere questo computer il tuo nuovo Mac in questo caso poi ci basterà quindi scegliere le varie opzioni come meglio vogliamo e poi ovviamente premere su continua che troviamo qui in basso una volta fatto ciò il tutto è pronto per poter essere utilizzato potremo poi scegliere le impostazioni di assistenza alla tastiera le quali potremo scegliere in base alle nostre esigenze e una volta fatto ciò avremo nuovamente il nostro Mac pronto per l'utilizzo proprio come se fosse nuovo con questi semplici passaggi è possibile quindi poter andare a resettare il tuo Mac senza aver bisogno di nessun tipo di ulteriore sistema infatti così facendo avremo così il nostro Mac pulito da quelli che sono i vari problemi o semplicemente perché magari vorremmo resettarlo per poterlo quindi pulirlo un po' da quelle che possono essere ovviamente le cose che nel tempo si possono accumulare spero che questo video ti sia stato utile se ti fa piacere iscriviti al canale metti mi piace con la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao ciao